E me diazza a tornare ancora una volta sul podio dei vincitori del carnevale. Dopo il successo raccolto a Romance di Sonzo domenica scorsa, il carro dedicato a gioche e Harley Quinn di Batman ha vinto infatti il 139esimo carnevale di Monfalcone, raggiunta anche la vetta per quanto riguarda il circuito del carnevale Isontino. La compagine ha quindi superato il gruppo di Oppicina col suo Noxepion gli inverni di una volta e l'associazione Sabotin di San Mauro con il volo delle idee. Per quanto riguarda i gruppi invece trionfa ancora Romance di Sonzo, così come nella Kermesse Casalinga e a Cervignano gli amici del Quaiat conquistano la giuria con la loro esibizione dedicata a C'era una volta il magico bosco del Quaiat ma sono gli allegri spazzacamini di Marcottini a ottenere il primo posto nel carnevale Isontino. La compagine Carsolina arriva terza invece nella classifica Cittadina. In migliaia quindi hanno seguito oggi l'evento a siepati ai bordi delle strade per il ritorno dopo tre anni di stop della sfilata. Nel 2020 infatti l'edizione fu tra le prime cose a essere cancellate in regione dopo l'annuncio del lockdown nazionale. Una ripartenza festeggiata anche dall'amministrazione locale, non immune dagli scherzi del periodo a partire dal testamento di Sio Aranzoletto, l'ultimo dopo 50 anni di attività. Ed ha due maschere che hanno sfilato con le sembianze del sindaco Anna Maria Cisint e dell'assessore alla cultura Luca Fasan. Applauso quindi alla Proloco che ha organizzato il tutto. Il sindaco evidenzia come il carnevale per i manfalconesi rappresenta un momento di gioia, spensieratezza e allegria. E siamo felici di vedere di nuovo nelle strade e in piazza tante persone che hanno voglia di divertirsi e di vivere la propria città, portando all'infa anche le attività commerciali. La serata si chiusa così alle 18 con Maxino, Elisa Bombaccigno e Flavio Furlan, chiudendo così il carnevale dopo una lunga rassegna di eventi. La serata si chiusa così alle 18 con Maxino,